Ragazzi ne dicono che è impossibile colpire questi 5 valigioni in 15 secondi Io provo Proviamo Ah No Ho sbagliato Ragazzi voglio riprovare Uno No No Ragazzi sono i belli ci devo provare No Ragazzi ci devo riprovare Nel senso Ok No 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 Ragazzi non è possibile che non ci riesco Ragazzi non è possibile che non ci riesco No 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 No